Bassano anno zero, si può parafrasare il titolo di un famoso film di Roberto Rossellini per riassumere la volontà del neosindaco Riccardo Poletto di garantire alla città un deciso cambio di rotta. Certo di voglia di cambiamento in giro ce n'è parecchia, ma quanto i bassanesi credono sia possibile voltare pagina. Le ha fiducia? Certamente. Speremo, guai se no. Ogni sindaco che si presenta fa sempre lo stesso discorso, però non cambia niente, anzi. Ma io sì, ho sempre fiducia. No. Come mai? Perché non sono persone che hanno il suo modo di fare, ma non è un modo corretto per Bassano. Su quali siano le priorità nell'agenda del nuovo sindaco le opinioni si dividono. Ce ne sono tante secondo me. Intanto prima ridurre i debiti che ci sono già. E dopo fare le cose più urgenti. Intanto è calare un po' quei tasse. L'immondizia soprattutto. Il problema è la viabilità a Bassano e soprattutto la piazza che alla sera non c'è neanche un cane in giro alle 8 di sera a Bassano. Ma qui a Bassano si sta bene, non è che è ancora una città a dimensioni, secondo me, dove si può vivere bene. Adesso dirle io sto bene, non avrei niente di cui lamentarmi.